Questo è il quarto giorno che raccogliamo delle firme per le proposte di iniziativa popolare qui nel municipio decimo di Roma, è andata molto bene, continueremo fino a domenica prossima se volete firmare queste proposte che riguardano legalità, sicurezza e trasparenza, ovvero non la base negli appalti, il vigile di quartiere, il libero accesso al mare, siamo in un municipio che si affaccia sul mare, il bilancio partecipato e le riprese del consiglio di streaming. Se volete firmare queste proposte ci troverete domenica prossima qui a Piazza Ancomarcio e accorrete, è molto importante partecipare.